Siamo pronti, eccoci, ci siamo quasi tutti, iniziamo la conferenza stampa di The Bad Guy, serie in sei episodi da 50 minuti, creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe Stasi, G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, che sono qui vicino a me, sulla mia sinistra, insieme a Luigi Locascio, Claudia Pandolfi, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, ho dimenticato qualcuno che è qui seduto vicino a me? No, va bene, e mentre in prima fila sono presenti per Amazon Studios Nicole Morganti e Davide Nardini, per Indigo Film i produttori Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori. Ricordo che il film è prodotto da Indigo Film con Amazon Studios e sarà disponibile su Prime Video dall'8 dicembre per i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre saranno disponibili dal 15 dicembre. Quindi dichiaro inizio alle danze, musica, grazie, possiamo andare avanti. Buongiorno e benvenuti, io vorrei che si iniziasse sempre dai giornalisti presenti in sala, perché sennò sono costretto io a fare delle domande epocali, di una banalità estrema per iniziare a rompere il ghiaccio. Quindi se qualcuno si offre volontario, sennò purtroppo parto io, ve lo dico subito, che sarà una domanda. Senza epocalità, per favore. Senza epocalità. Perfetto. Vogliamo iniziare con i registi, dai, secondo me, perché ce l'ho più vicini. Sono senza parole tutti, sono rimasti... Guarda che non le fate neanche dopo, allora. Stanno pensando come potranno andare avanti. No, allora, guarda, visto che ha preso la parola Locascio, è benvenuto. Faccio una domanda io. Sì, no, io voglio sapere quanti, perché ormai anche tu sei entrato purtroppo nel loop, lo dico purtroppo per te, perché so quanto costa, del trucco interminabile. Ah, il trucco interminabile. Sì, no, no, l'avevo già sperimentato con noi credevamo, perché anche là c'era, nel film di Mario Martone, un trucco che durava anche cinque ore, quattro ore e mezza, anche questo qua dura circa quattro ore e mezza, cinque ore, però io poi c'ho un trucco che è mio, io mi addormento. Cioè, nel senso, le mani dei truccatori, dei parrucchieri, sono così gentili, così garbate, così carine, l'orario è così presto la mattina, perché si va lì alle quattro, tipo cose del genere, che è molto bello addormentarsi, trovarsi con un ferro bollente vicino, così. Però sono soddisfazioni perché poi la cosa funziona a quanto pare. Cioè, nel senso, vi racconto questa piccola cosa che è successa al Teatro Massimo, al Teatro Politema di Palermo, dove giravamo una scena, e io ero dopo questa trasformazione, quindi ero bello pieno, diciamo, una persona molto, molto in carne, ben messa, diciamo, e spero anche lontana da me, anche per permettere, diciamo, la trasformazione da un personaggio all'altro. Allora, a un certo punto, in una pausa, siccome c'era appunto tutto il teatro pieno, anche di comparse, si è avvicinata, una signora che poteva essere, diciamo, dell'età di una mia zia, anche dal punto di vista proprio fisico, si avvicina e mi fa, signor Locascio, io a lei la seguo da tanto tempo, ma ridotto così non l'avevo visto mai. Lei deve stare attento, capisco il lavoro, capisco le cose, però questa non è una cosa che si deve fare, troppo stress, troppa preoccupazione. E poi che cosa succede? Che uno incomincia a bere, incomincia a prendere le pillole e si riduce nel modo suo, perché questo non è, questo non mi sembra cosa di mangiare, questo mi sembra cosa di bottiglia o di farmacia. Io non ho avuto il coraggio di dirle che ero truccato benissimo, ho detto, signora, io ora rallenterò un pochettino e le assicuro che tornerò in forma come un tempo. Mi ha alterato anche la pigmentazione perché avevi le enti a contatto, tra l'altro. Esatto, erano diventati gli occhi verdi. Abbiamo già dato un elemento di trama, eh? Sì, ma è giusto, è giusto che si sa. Messa lì, l'abbiamo buttata lì prima di iniziare. Claudia Pandolfi vuole, anche lei è stata oggetto di trucchi interminabili? No, non in questa occasione, diciamo che la mia è più una trasformazione interiore, cioè che Luisa Vittoria Brahi, che è il personaggio che interpreto da tutti, chiamata Luvi, in realtà fuori è molto semplice, determinata, incapace, anche un po' brusca, gran professionista, ma a differenza del papà e del marito, compianto, magistrato, vittima di mafia, a differenza del marito e del papà, lei, i criminali, ha deciso di difenderli. Quindi insomma, diciamo che il mondo di Luvi è sfaccettato e soprattutto è interiore in questo momento, qua non si può fare un passo senza rivelare cose, sono terrorizzato. No, 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 speriamo di contenere, me lo prendo anche io come monitor, di non fare spoiler. Ho visto una mano alzata, se non sbaglio. Sì, anch'io l'ho vista. Eccola lì. Un volontario. Sarà premiata per questo. Giulia Bianconi, Quodidiano Il Tempo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Per Luigi Locascio, volevo chiedere, intanto la fascinazione per questo personaggio, da dove parte, che cos'è che ti è piaciuto, e l'introduzione che fai al pubblico di quest'uomo, dice il destino degli eroi è morire nella gloria, allora se questo ci porta a una riflessione che questo paese porta gli eroi a morire nella gloria. Grazie. Ma io non vorrei essere deludente, poi è difficile trovare le parole per dire compiutamente quello che succede in questa serie e nel mio personaggio, perché è qualcosa di molto ampio, ha più strati, è qualcosa di molto profondo ma anche di molto aereo. Io posso dire soltanto le impressioni che ho avuto quando l'ho letto, ho letto le sei sceneggiature delle sei puntate e mi sono ritrovato a completarle dicendo ma come, basta, è troppo bello, è troppo bello quello che ho letto, è troppo bello, mi piacerebbe molto esserci. Siccome diciamo tra la proposta e quando poi le cose accadono passa del tempo, già alla quarta puntata ho chiamato e ho detto l'ho letto tutto, è bellissimo, ci voglio essere, perché temevo che leggendo le altre due intanto scelevano l'altro, perché ci sono sempre due almeno, due o tre attori, perché quello non c'è, sì il competitor, il mio competitor, che non posso dire il nome, una persona che odio ovviamente perché mi fa sempre lui, stavolta l'ho fatto io, spero che, non so se succede che magari appunto, vabbè, però è finita la cosa, è finita e l'ho fatto, l'ho fatto, diciamo la verità, le due parti, una la faccio e uno la fa l'altro, cioè che ci somigliamo anche fisicamente, vabbè, comunque, quindi io sono rimasto molto colpito da qualcosa che non ha a che fare con, cioè sì, i temi sono grandi, siamo nel campo della mafia, però il divertimento, ma proprio in senso pieno, è anche intelligente, cioè nel senso per l'intelligenza di cui posso essere capace io, cioè la vivacità di quello che succede è talmente forte che poi è anche qualche cosa che ha a che fare con la mafia, è qualcosa che ha a che fare con le cose che conosciamo da molto vicino e anche fortemente drammatiche, ma c'è una libertà di invenzione che fa sì che questo film possa essere visto anche come, lo dicono anche gli autori, come un dramma shakespeariano, dove non ti chiedi se è ambientato nella Scozia di Macbeth oppure nella Venezia di Otello, e là c'è il demonio però, dappertutto può capitare di incontrare personaggi con qualcosa di molto forte dal punto di vista, è proprio delle, diciamo, della loro stoffa caratteriale, ma anche dal punto di vista espressivo per un attore, quindi quello mi ha attratto moltissimo. Mettiamo anche dentro il fatto che c'è tra le grandissime forme di libertà che si sono presi gli sceneggiatori, i registi e anche i produttori, è anche il fatto di fare parlare i personaggi con la loro lingua. Questa è una cosa bellissima, che credo che darà molta forza poi, almeno mi auguro, alla serie, perché è bellissimo il fatto che io, a un certo punto il mio personaggio parla proprio la lingua dei quartieri, parla proprio il palermitano molto stretto, era già successo col traditore, infatti c'è qua Ludovica che aveva già sperimentato, il fatto che non è una cosa da eliminare, come se fosse qualcosa che allontana, ma invece qualcosa che cattura fortemente l'attenzione dello spettatore, essere calati veramente dentro una realtà, che ha una sua dimensione linguistica particolare, che è peccato perdere. Allora, è stata chiamata in causa, io mi rivolgerei agli sceneggiatori, Ludovica Rampoldi e Serino, è stato chiamata in causa dall'Ocascio, è stato citato Shakespeare, vorrei che voi sceneggiatori ci raccontassi un po' il lavoro, il progetto eccetera. Noi non citeremo Shakespeare, assolutamente. Ma Kurosawa sì magari. No, quello che noi pensiamo, noi, io, Davide, Giancarlo e Giuseppe, è che fare una commedia non significhi trattare temi leggeri con tono leggero, ma affrontare le cose più drammatiche, più inconoscibili, più misteriose, quelle che sono le ferite ancora aperte e che ancora fanno male, affrontandole con un tono a volte leggero, a volte scansonato, a volte sopra le righe. E la loro regia lo consente anche a noi di scrivere in una maniera più sciolta e più sicura, perché loro riescono sempre a bordeggiare il grottesco senza mai finirci davvero dentro, ma sempre rimanendo molto ancorati al realismo. Noi abbiamo scritto questa storia come se fosse un vero dramma, una storia di mafia che poteva anche essere letta in una maniera più canonica, drammatica, pesantissima, eccetera. Su questo abbiamo innestato un tono un pochino drogato, un pochino sopra le righe. E mi ricollego anche alla domanda che ha fatto la giornalista del tempo sugli eroi. Questo è un tema che c'è molto nella serie, cioè il nostro bisogno di creare un eroe. Perché cos'è un eroe? È qualcuno che assolve la nostra incapacità di portare avanti una battaglia. C'è lui, lo mettiamo su un piedistallo, ci sentiamo rassicurati dal fatto che lo fa lui, quello che noi non siamo capaci di fare. Se, diciamo, i più fortunati hanno l'occasione di morire su quel piedistallo, se non muoiono, dopo un po' il loro stare là sopra non inizia a dare fastidio e ci sentiamo un po' messi in discussione nella nostra mediocrità, visto che c'è qualcuno che sta più in alto. E scatta un piacere atavico, collettivo, di tirarli giù e buttarli nel fango e tutto sommato questo ci fa sentire migliori. Hai citato Brecht però, eh? Eh sì. Serino vuoi aggiungere, integrare qualcosa? Sì, no, volevo solo aggiungere che l'ambizione, la sfida su tutti i personaggi è stata quella di metterli di fronte sempre a una scelta impossibile tra due opzioni pessime, diciamo, su questo abbiamo ancorato il nostro racconto per cercare appunto di scavare nel fondo di tutti i personaggi, a partire da quello di Luigi, ma su tutti, perché in fondo il vero nemico, questa è la grande storia di Bad Guy, diciamo il fatto che trasformarsi nella propria nemesi in qualche modo, ed è quello che è il viaggio che attraversa Luigi, è il viaggio che in fondo attraversano tutti i personaggi, trovare il grande nemico dentro di sé, affrontarlo o trasformarsi. Allora a questo punto io chiamerei in causa i registi perché da quello che gli sceneggiatori hanno detto è un racconto di mafia in toni assolutamente poco convenzionali. Quindi voi siete stati scelti o avete affrontato fin dall'inizio questo progetto e soprattutto il metodo di lavoro? Hai credo che parta da un deficit questo lavoro? Noi siamo in grado di essere seri, è un problema. Siamo in tanti, sei in questo? È una cosa molto debilitante, quindi diciamo che Ludovico e Davide hanno captato magnificamente questa nostra incapacità e ci sono venuti incontro da questo punto di vista. Il problema è che la sceneggiatura, che il pool di sceneggiatori, come ha detto qualcuno, ha tirato fuori, era talmente bella, infatti tutti sul set ci facevano i complimenti, ah quanto è bella, ha scritto bene, che io e Giuseppe abbiamo capito che potevamo solo peggiorare le cose, cioè potevamo solo rovinarla e per quanto ci siamo impegnati molto per farlo, la base di partenza era troppo alta, quindi adesso giudicherete il pubblico, giudicherete voi, però ecco noi ci abbiamo provato a rovinarla. C'è una curiosità che chiedo, io intanto chiedo... L'umiltà di questi due registi mi sembra veramente sovversiva, ad esempio. No, anche perché... No, a proposito di non essere seri. Sono 300 minuti, avete proprio diviso al secondo 150 per uno o come avete lavorato? No, sono un corpo solo, posso dirlo io? Posso rispondere a questa domanda? Loro sono una persona sola, sono assolutamente complementari, ma sono diversi, ma affini, c'è profondo rispetto per l'altro essere umano e quindi sono costantemente l'uno in nasconto dell'altro, si divertono nella stessa maniera, hanno prerogative diverse, infatti seguono aspetti della lavorazione leggermente diversi, ma poi tu, cioè l'indicazione che ti arriva è una sola, ed è magnifica, ed è trasparente, ed è approfondita, quindi diciamo che... Hanno un po' tutti gli spettri che almeno io come attrice vorrei che un regista mi offrisse e quindi io l'ho conosciuto in realtà a un provino dove poi non abbiamo più lavorato insieme per questioni di forza maggiore, ero molto gravida e... Non pensavo io incinta. Molto incinta e quindi non si poteva proprio fare, però poi quando ci siamo rincontrati al provino in occasione di questa serie io veramente ero in brodo di giuggiole, perché un divertimento così puro e così... Poi canalizzato in una direzione, su un progetto magnifico, sovversivo, ero abituata a fare le donne austere, così come all'Uvi, ma che poi non avevano il contraltare... Non fare spoiler. No, infatti vedi come mi autocensuro, vedi? Ah, 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 è morta dentro la parola. Ma quindi insomma per me è stato veramente molto molto bello incontrarli. Anche qua io non dico più niente perché potrei solo peggiorare. No, è che poi quando i registi si divertono, poi la produzione arriva e vedo una mano alzata, la produzione arriva e dice ragazzi divertitevi dopo, magari andiamo avanti col girato, no? No, perché invece non è che disattendevano l'appuntamento con la produzione. Divertiti, divertiti. No, divertiti nel mentre, non è che si divertono, non è che creano intervalli, il divertimento è la cosa che fanno. Tra l'altro poi loro sono due adesso, ma loro si moltiplicano, cioè nel senso è impossibile che per sei mesi erano sempre febbrili, forti, vivaci, divertenti. Cioè io ho detto se non è qua c'è qualche cosa, perché loro hanno a che fare sia col passato, con la tradizione, ma anche con le nuove tecnologie. Secondo me loro hanno degli androidi che ogni tanto mandano al loro posto sul set per essere al livello di quell'energia fortissima che c'è stata tutto il tempo. E noi, almeno, io proprio non ho sentito dire che io sono un poveraco. Nuove tecnologie, elemento ulteriore per notare un pochino la serie, anche complessante. Per il tipo di stile così. Ho visto una mano alzata. Grazie comunque Luigi, grazie. Grazie Claudio. Dobbiamo essere autentici. Abbiamo due registi che sono un po' come l'operaio di Willy Wonka. Dico il Bianchi Cinecittà News per Locascio Vandolfi. Volevo sapere come abbiate costruito la coppia. Ovviamente avrete lavorato su una drammaturgia di complicità, ma capiamo un po' da quello che abbiamo visto, un po' da quello che avete fatto intuire, che siete per alcuni versi a dei poli opposti. Quindi come avete lavorato su questa dinamica a due, sia insieme, sia individualmente. Grazie. Ma, e ora beh, è difficile dire lavorare, nel senso, come se ci fosse... ognuno ha il suo metodo, no, 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 nel senso che poi ogni personaggio ti spinge a lavorare in un altro modo. Ma mi è venuto, e quello ti guida anche, la scrittura e la stima che ho per Claudia. Io ho sempre aspettato il momento in cui potesse capitare di lavorare con lei. E questo qua crea comunque un sottofondo di anche fiducia, che si porta anche nei personaggi, cioè che si trasferisce anche nel fatto di essere lì davanti a lei, magari per la prima volta sul set, e invece dare per, come se fosse veramente accaduto, qualche cosa di profondo tra di noi. E quindi in questo senso è, poi abbiamo vissuto le scene come erano, non è che c'è uno studio particolarmente, come dire, approfondito. Erano le parole che dicevamo, ma che avevano come alle loro spalle, come dire, la bellezza di essere di fronte a un attore, dal mio punto per me, che stimi tantissimo, è un personaggio affascinante, perché l'Uvi è veramente una forza della natura. Senza aspettare di vedere se ci sono rivolgimenti, se cambierà, se si trasformerà, com'è, com'è appare, anche già dai primi istanti, è una creatura di cui non si può essere che innamorati perdutamente. E questo non c'è bisogno di recitarlo, si vive sulla scena direttamente, senza grandi infingimenti, diciamo. Con un moto di commozione ringrazio il mio compagno di Mille Avventure, perché questa cosa non me l'aveva ancora mai detta, mi fa molto piacere. E qui dovrebbe scattare l'applauso, io lo dico, no? No, però, insomma, è chiaro che la stima è reciproca, ma tu lo sai perché io te l'avevo detto, invece. Sono di poche parole, sì. Sì, e questo ha aiutato molto, anche perché l'Uvi e Nino, allora, quello che per me era importante era tenere sempre presente l'innamoramento, a prescindere di l'Uvi verso Nino, e questo era proprio un filo conduttore che non doveva mai mancare. Loro si amano, il loro rapporto è bellissimo, è vero, sono due anime contrapposte, probabilmente. Ma perché tu lo dici? Quante puntate hai visto? Due, ok. Come tutti, eh? Sì, come tutti, esatto, esatto. Va bene, va bene, va bene. No, dunque, sì. È un campo minato. Veramente, porca miseria. Sento la luce del cecchino sulla mia fronte. No, perché ti rivelerei troppo. Ma manca poco, perché è dall'8 dicembre. Già la pupazza. Vabbè, comunque, diciamo che questo... non ci ho lavorato tanto con Luigi. Non siamo stati troppo insieme sul centro. Perché non è un lavoro, è un gioco anche. No, non volevo dire questo. No, invece ti conviene dire questo. Ci siamo visti molto. Le nostre strade sono destinate presto a separarsi. Però questo lo sanno, che sono destinate presto a separarsi. E questo per lei corrisponde a un lutto che probabilmente non sa neanche gestire. Le arriva addosso. Ma... Basta. Ma basta. Siamo pronti per un'altra domanda. Abbiamo l'ultima domanda. Abbiamo le ultime due, va. Così, poi non lo chiudiamo. Aspetta, c'è prima lui. Vabbè, è uguale. Ok, perfetto. No, 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 no. Chi l'ha detto? Scusa, poi domani mattina mi fa pagare colazione. Non so se... Cioè... Ciao. Locascio può dire qualcosa sul suo personaggio di cattivo. Allora, io ho sempre pensato che fare il cattivo potrebbe essere divertentissimo. Volevo capire che rapporto c'hai col tuo personaggio e la cattiveria del suo personaggio se puoi rivelare che è cattivo. No, io non mi sottraggo, ora provo a rispondere cercando di rubare poco tempo però veramente abbiamo questi due mostri. Mi piacerebbe sentire un po' loro anche perché appunto sono degli enigmi. In siciliano, di là in siciliano. In palimetano. In palimetano, fa più cattivo. Casugno cattivo. No, no, aspettiamo di vedere dall'8 dicembre. No, allora, la cattiveria non è una categoria che io tengo presente. Cioè nel senso... È una cosa che viene fuori soprattutto al cinema. Mi è capitato di fare anche in un hotello Iago. Però poi, finito lo spettacolo quando venivano gli spettatori o gli amici a salutare in camerino nessuno mi chiedeva ma tu sei veramente cattivo? Ma come hai fatto a fare il cattivo? Cioè nel... No, no, dico esatto. Nel teatro è più chiara la dimensione della maschera. Cioè qualche cosa che tu indossi e poi finito lo spettacolo la poggi sul tavolino del camerino e torni a essere quella cosa che è anche cattiva, buona, quello che è. Ma sicuramente più piccolo di come sono i personaggi a teatro. A cinema invece si chiede anche come se si entrassi in qualche cosa dove devi dire qualche cosa di te di personale, di... La mia cattiveria è una piccola cattiveria non arriva a questi livelli. C'è da dire però una cosa e secondo me questo è interessante anche per seguire le varie puntate e l'evoluzione della storia. All'inizio il personaggio che è buono cioè rappresenta comunque il bene è comunque, come dire, sconfina per la sua professione nel regno del male lo conosce lo possiede anche linguisticamente e quindi all'inizio di questa della serie lui indossa anche lì quasi teatralmente la maschera della cattiveria cioè la rappresenta per entrare dentro un mondo lui si finge cattivo. La cosa interessante sarà capire e questo è anche il gioco attoriale ma anche per lo spettatore se c'è una fascinazione del male cioè se quella maschera a poco a poco si scioglierà e diventerà si confonderà con i tratti del volto ma per saperlo bisognerà vedere questa serie. Ultima domanda. Sì, buongiorno. Diciamo che è primariamente per gli sceneggiatori questa domanda ma chiunque altro soprattutto i registi voglia aggiungere qualcosa sono i benvenuti. Parto da un'opinione personale questo nostro paese è un paese che sa essere incredibilmente cialtrone incredibilmente surrealista ma allo stesso tempo molto moralista. Quindi mi chiedevo se nell'affrontare con questi toni una serie di reali tragedie dei nostri tempi vi abbia messo la voglia di superare determinati limiti ancora di più oppure in qualche caso avete voluto censurarvi. Grazie. Siamo andati a briglia sciolta totalmente. No, ma lo dico seriamente non credo ci sia stata io non ho mai visto una libertà tale in Rai Trust Room cioè come già abbiamo dichiarato in alcune interviste noi partivamo da un'ora di fraseggi di cazzeggio come diceva la Gess Carpelli prima che si dicesse brainstorming si diceva cazzeggio e quel cazzeggio parlavamo di ah ma sai questa cosa che accadde a Falcone quando fu andato al ministro della giustizia ah ma hai letto quest'atto del processo qui questa famiglia ha comprato un acquapark poi oh ma hai vista questa scena dei Simpson te la ricordi c'è un'orca il discorso funebre di Bojack Horseman cioè era un'ora di questo poi diventavamo seri quindi si cominciava a parlare di struttura di tutte quelle cose un po' tecniche e poi quando scrivevamo veniva fuori quello che dicevamo in quell'ora di cazzeggio cioè c'era tutto quello spirito e poi la cialtronaggine che tu hai è stato un faro un po' anche noi diciamo abbiamo un po' cialtroneggiato quando ci siamo divertiti a immaginare un ponte sullo stretto di Messina che fa la fine che sapete e abbiamo anche come dire preso molte cose dalla realtà questa cosa dell'acquapark è venuto fuori perché a un certo punto io ho chiesto a un mio amico che è un serissimo giornalista di mafia se mi mandava degli atti di processi per capire la nuova mafia come si muove eccetera in queste 1800 pagine c'era un accenno a questo acquapark nel mezzo del nulla fatto costruito distraendo fondi europei e lì nel cazzeggio di quell'ora ci immaginavamo queste orche abbandonate a loro stesse questa desolazione degli scivoli e questo poi è diventato insomma materiale del racconto sì comunque sulla domanda sul moralismo o la morale chiaramente è centrale nel racconto quindi quando l'abbiamo affrontato l'abbiamo fatto con la massima serietà ma come diceva Ludo prima drogandola questa domanda e quindi diciamo tutte le forzature e le estremizzazioni sono molto pensate e affrontate di petto ecco sì anche il nostro eroe è un cialtrone in fondo è un buono è uno che fa il bene però lo fa anche con vanità con un ego smisurato per come dire nutrire il proprio narcisismo questo non toglie che sia una persona che agisce per il bene ma come dire desacralizzare il bene forse è un primo passo per riuscire poi a costruirlo davvero quotidianamente benissimo grazie a tutti su Prime Video dall'8 dicembre grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti